Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo aggiornamento settimanale Allora ragazzi partiamo subito dal podio del casino, come ben vedete abbiamo la Wagner Vi consiglio se volete vincere questa macchina di andarvi a cercare il glitch della ruota della fortuna Per vincere sempre ciò che si vuole e vi consiglio anche una volta che siamo al casino raga Di prendere sempre le chips che ci possono venire bene A questo punto ci catapultiamo da LS Autoraduno ragazzi Dove come veicolo del podio troviamo la Comet ragazzi SR La vecchia Porsche che usava anche lo psicopatico del dottore di Michael della storia Quindi andiamo a vedere cosa ci danno per AO Come veicolo di AO ci propongono l'S95 ragazzi E poi come veicoli di prova abbiamo questi tre veicoli qua Che ci li ripropongono molto spesso A questo punto ragazzi passerei subito agli showroom Quello di Simeon, quello nuovo ragazzi Dove ci propongono questi due veicoli Guardate che carini Non sapevo neanche raga che si potevano visualizzare in questa maniera Non mi prendete a parole L'ho scoperto adesso dopo quasi due anni che è uscito col DLC Ma va bene Continuiamo ragazzi Ci teleportiamo allo showroom di Simeon Dove ragazzi Rockstar appare il mio Si è caccata sotto Non lo so cosa ha fatto oggi Un aggiornamento veramente scrauso Macchine del cavolo Vecchissime Viste e strariviste ragazzi Non capisco Rockstar veramente dove sta puntando Perché ci ripropongono le stesse macchine 12.000 volte al mese E ce ne elevano 180 dallo shop Io sono un pochettino Un po' così perplesso ragazzi Quindi non ci incischiamo Vi faccio vedere che non è uscito nessun nuovo veicolo su Legendari E purtroppo non è uscito neanche su Saura Andreas Quindi non ci incischiamo ragazzi Purtroppo auto nuove noughenè E andiamo allora a vedere cosa c'è con gli RP doppio tripli Andiamo sulla categoria gare ragazzi Dove troviamo le gare aeree Se non sbaglio dovrebbero essere gare aeree queste ragazzi Fatemi sapere nei commenti se l'avete già fatta Se fanno caccare come tutte le altre Dopodiché raga a questo punto Passerei alle prove a tempo Questa per tutte le piattaforme Si trova in questa posizione Questa è l'esclusiva Next Gen ragazzi Si trova in quest'altra posizione E questa è quella dell'RC bandito E si trova in questa posizione Queste gare vi permettono di fare quei 350.000 ragazzi O poco di più Approfittatene se volete farle A sto punto raga Siamo giunti alla fine Vi voglio semplicemente Aggiungere che ci sono gli sconti Sulla Avenger E sulle proprietà dell'agenzia Se volete approfittare per modificare O comprare questi due complessi È il momento giusto E vi voglio anche aggiornare Che c'è un nuovo account moddato Ragazzi ho postato lo short ieri Se siete interessati Non esitate a contattarmi Prezzi stracciatissimi E niente ragazzi Lasciate un like Lasciate un commento Supportate Savix Supportate il canale Abbonatevi se volete Supportarmi alla grandissima E farmi venire sempre più stimoli Ragazzi Per portare sempre più video Per voi Quindi a questo punto Un saluto E sbada bam Alla prossima Ciao